Ginevra Il consulato turco aveva richiesto di rimuovere in particolare la foto che fa riferimento all'uccisione di un quattordicenne durante le proteste con la scritta Mi chiamo Berkine Ilvan, la polizia mi ha ucciso su ordine del premier turco Ginevra non permetterà a nessun paese di avere un'influenza sulla questione, dice il vice sindaco della città Ginevra e la Svizzera sono una città, un paese dove vigila libertà di espressione Il consiglio amministrativo, l'esecutivo della città di Ginevra confermerà questa mostra ed è fuori discussione che queste fotografie vengano ritirate Le 58 immagini documentano le manifestazioni che si sono svolte nella piazza di Ginevra antistante alla sede dell'ONU in segno di protesta contro la repressione della rivolta di Ancara nel 2013